Adesso questo qui Lollina che cosa stai facendo? Eh? Ciao Lara Sto attaccando una scritta Ecco ho fatto Ho sottoccatto la scritta lol Che bello hai fatto tutto da sola Sì Sai cosa dobbiamo fare? Che cosa? Una spiegata di moda Wow voglio proprio vedere Certo puoi partecipare come pubblico ti va? Sì Bene Da poco comincio Aspetta Ho dimostrato delle cose Che cosa? È troppo lungo la spiegazione Lollina che cosa ti manca? Eh? I vestiti Non ti preoccupare ci penso io perché sono fashion Veramente? Sì vado a fare la spesa Grazie Prendi cose belle? Vabbè sei fashion Ok Sarai capace Meno male Almeno una cosa l'abbiamo risolta Allora La giuria C'è Ragazzi della giuria Siete pronte giusto? Sì E il pubblico c'è? E anche vediamo un po' il trofeo Vediamo un po' se c'è il trofeo Per la vincitrice Ecco anche il trofeo c'è Bene direi che manca giusto una cosuccia Tipo i vestiti Ah le indossatrici E le indossatrici quando arriveranno Siamo noi le indossatrici Oh sì Ciao Bene 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 Arriva il lady Lady È a fare la spesa Ah Non di cibo eh Ovviamente Sarà comprando Un paio di vestitini Adesso aspettiamo che arrivi Sei ore dopo Arrivata? Eh? Ah? Ah? Oh mi sa che Mi ero un attimo appisolata Ma Ma quanto tempo sei stata fuori? Eh eh Ci ho messo pochissimo Immagino Avrei girato Duemila negozi Uh Quante cose No No ne ho girato Uno solo Si sono addormentati anche quelli che ci lavoravano Dentro Eh Hai ragione tu Eh sei un po' lentina Però hai preso un sacco di cose bellissime Ebbene Esatto Portale dietro nel backstage E così vestiamo le nostre indossatrici E io comincio a presentare Ragazzi Sveglia Oh che c'è Sveglia È arrivata Ce l'abbiamo fatta Abbiamo i vestiti Dopo sei ore Eh Lo sai com'è fatta quella Fashion 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 Esatto Fashion dappertutto Esatto E quindi Fashion Ci ho messo un sacco di tempo Vabbè Ok Cominciamo Sveglia Eccoci Ma tu caschi sempre Tipiti Tira di su Allora Posso andare con le presentazioni Eh Vado Si Comincio Ok Eh Aspetta Metto la coppa vicino a me Che fa più carino Si Benvenuti nel mio canale youtube E oggi Io sono Lullina E quindi Vi volevo Sto in una coppa Si Perché Stiamo per fare Una sfilata di moda Mi va a vedere Insieme a noi Sì Sento dei sì Sento un sacco di sì Bene Allora cominciamo E questa è la coppa Che andrà in premio Alla vincitrice Ma non c'è Soltanto questo premio C'è anche un'altra cosa bellissima Per chi Partecipa E Non solo Voilà Eccola qui Quindi dopo la sfilata Scartiamo un'altra Amichitta Ciao Tra poco ti apriamo Allora Pronte Sposto tutto E cominciamo con la sfilata Buon divertimento Come sono andata? Come sono andata? Che dite? Andava bene? Sei andata bene Ma ora togli la roba Che dobbiamo cominciare Sì Hai ragione Eh sì Non è facile Metto qua eh Sì Vado? Adesso che devo fare? Ah sì Devo cominciare a presentare le ragazze Ah sono da quest'altra parte E cominciamo la nostra sfilata Con la prima concorrente Abbiamo Ice Skater Con un look Veramente Veramente Carino A voi Ma vediamola Più da vicino Ho Degli occhiali Ro Fucsia Poi Un pantaloncino Dorato Questa magliettina Verde Con i Bianchi E i pattini Blu E veniamo al voto 7 e 8 Fa 15 15 punti Evviva E ora tocca Piccatara Avvicinati Ho questo giacchetto Poi ho questi pantaloncini Fucsia E queste Scarpette Fucsia Che bella collana Wow Di metallo Bellissimo E i voti E i voti sono 9 e 6 15 Grazie Piccatara Ciao Ciao Ed è il turno di Alice Avvicinati Sai che assomiglia a bombone Vestita così Certo Spiegaci un po' Cos'hai Ho questa gonna Questo giubbetto Questa collana Le scarpette E il mio fiocchetto Dai Votiamola 7 e 8 Hai totalizzato 15 punti Evviva Grazie a tutti Siamo giunti all'ultima Indossatrice La nostra Fashion Lady Fashion Wow Sei Glitteratissima Grazie Fashion 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 Giacchettina Glitter Stivaletti Glitter Glitter Ti do 270 270 270 270 270 270 270 Incredibile Colpo di scena Abbiamo 1 2 3 6 voti Da 270 Che fa 16 e 2 Hai vinto Grazie Volevo prendere il premio Ecco il tuo premio Una bellissima coppa LOL Che bello E anche questa Bull Ma infatti La Bull Per tutte quante Così festeggiamo Tutti quanti Anche quelle che non hanno vinto Siete contenti di aprire una nuova amica? Sì Dai Apriamo? Certo Lara Ci aiuti? Sì Certo Lara Sei pronta ad aprire? Certo Vai Tira Sono un po' curiosa Ma poco eh Non ci è mai capitato Questo indizio È il club retro Giusto? Sì Vediamo un po' Vediamo dietro che c'è scritto Old school Apriamo Apriamo ancora Questa è una bambolina nuova Chi ha adesivi? Va davanti Posso? Io? Vai È fucsia la Bull Molto fucsia E qui si capisce Già Sarà Dal biberon Oh bottiglietta rosa Col coperchetto nero Mi ricorda molto il biberon di Poche Soltanto che era rosa chiaro Esatto La tiro io? Sì Vai Ecco E ora apriremo le scarpette Vai Tira Io poi Io poi Avevo le scarpette Io continuo a tagliare la pellicola Non tagliare le scarpette Se no è la fine Avete cominciato a capire chi è? Io ho un sospetto Già Ce l'ho Speriamo che sia quella che penso Esatto Quella che voglio io È rimasta l'ultima boccetta Vai tu la retta vai Insieme No tu 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 Tira tira Non si aprirà mai più Ecco Si è aperto Vai Il vestitino Infatti apro la pallina Intanto che guarda Abbia fuori il vestitino Sì È quella che voglio io Mamma Carina Guarda che bel vestitino Doppio Pantaloncini e magliette Ma è attaccato? No Non è attaccato Un'altra postina Un'altra postina Ha un altro accessorio lei Guarda Apro Che cos'è? Il ciuccio Il ciuccio E la bambolina Allora Io ho già capito chi è Quella che voglio io Prendi un po' Apri un pochino Fa vedere qual è Io ho già capito Guardate ragazzi No prima di aprirla Dico chi è Non l'apro Allora Questo è sicuramente Il retro club Eccolo qui Io credo che sia lei Perché guardate Scarpette Rosa Sì Giacchetto Sì Biberon Qua non c'è disegnato Che è ciucchino Quanto sei carina Ma è girata? C'è il culetto Davanti No Eh no Ti hanno girato male Eh no Eh no Ti hanno girato male Eh no Eh no Ti hanno girato male Eh no Oddio Si è perso la testa Mettiamola a posto Al tatuaggio Uh al tatuaggio Ok Questa dovrebbe O sputare o piange Perché non aveva il tubetto Ma quanto sei carina Ma è bellissima Si Siamo arrivati alla prova Dell'acqua fredda Pronta Andiamola Vediamo se cambia colore Dovete sapere che le nostre LOL Non cambiano mai colore Forse questa sì No Questa no Però Riempiamola d'acqua Per vedere Vediamo cosa fa Che cosa fa Se ha Vediamo Secondo me piange Dici Allora le caratteristiche delle bamboline Possono essere O Cambia colore O Pipi laser Occhi laser Sputo laser Vediamo questa cosa fa Sputo laser Secondo me piange Occhi laser Vedete Guardate come piange A un chilometro di distanza Uè Piangi perché non cambi colore Si Guarda ti faccio vedere lei Come cambia colore Si Guardate Guarda Wow Ma magari se stai nell'acqua A sei ore Cambi colore Eh no Eh no Però sei veramente Quanto cambia colore Oddio E' così bella Che sono cascata nell'acqua Niente Non cambia E' la nostra Cinquecentesima Allora Che non cambia colore Allora Togna una cosina Per asciugarla Ok Ecco la vestita Quanto sei carina E' bene arrivata In questa Pazza Eh Situazione Famiglia Di lol Benvenuta Melissa Grazie Ma che bel nome mi hai dato Prego Allora Vi volevo dire due cose Di questa pambolina E' buffissima Perché ha le sopracciglia Una un po' più su E una un pochino più giù Ehm Devo dire che ne ho viste altre Con questo effetto Molto molto più Accentuato Invece sono quasi quasi Pare E mi piace molto Ehm I vestitini di questa Roll Sono morbidissimi Non ho fatto nessuna fatica A metterlo Sono veramente morbidi Gommosini Molto molto belli Ha un profumo normale Alcune sono Hanno un odore meraviglioso Sano di zucchero Questa ha un odore normale Non profuma Ma dobbiamo fare la cosa più importante Che cosa? Attaccare l'adesivo Vai Laretta Attacca l'adesivo Eccoci Questa è la nostra cartina Con tutti gli adesivi Ed eccone un'altra Delle nostre carine Bene Abbiamo inaugurato Un altro club Perché abbiamo appunto La prima bambolina Del nostro retro club Ne abbiamo una Del chill out club Ne abbiamo una Dello story book club Una dell'athletic club No due 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 sportive Abbiamo una Del glam club Fashion Poi abbiamo Fashion 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 Ho capito Una dell'hip hop E abbiamo Niente Finito Queste sono tutte Le nostre roll Ci manca qualcuno Del cosplay club Che è il mio preferito Niente Non ce la faremo mai Bonbon Io Lara adora bonbon Io adoro midnight Chissà se un giorno Mai riusciremo Ad avere E invece Le nostre lilline Invece del cosplay club Perché abbiamo La neon Mi piccola Abbiamo la neon Piccola E la chill out E che altro Basta End E va bene Bene Melissa Ti piace il tuo nome A noi piaci tantissimo Sei proprio carina 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 Tantissimo Sei super Bene E ragazzi Io avrei un consiglio Da darvi Lina Ti posso dire una cosa All'orecchio Che cosa Che cosa Che cosa Che potrebbe fare Questa cosa Che cosa Sì Eh Sì Certo Lisa Guarda cosa c'è per te Per me Eh sì Questa era una coppa Per la nostra sfilata Ma siccome sei nuova Te la regaliamo Fashion Sei d'accordo fashion Certo Ok Vuoi andare dentro Sì Bene Lolina Devi salutare E devi avvisare Tutti quanti Del prossimo video Ok Mi rimettete gli occhiali Grazie Mi cascano 102 volte Appinante Eh No Sì No Grazie Eh perfetto Allora Bene Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Tanto E spero Che voi siete Fashion Mi hai fatto cadere Gli occhiali Rifacciamolo Mattene Un bel giorno Mattene Spero che questo video Vi sia piaciuto tantissimo E che vi piaccia La nostra nuova amica Diteci se ce l'avete O se avete delle altre lol E diteci se vi piace Il nome che abbiamo scelto Per lei E che altro vi devo dire Adesso Io vi dico Semplicemente Iscrivetevi a questo canale E mettete mi piace E adesso Barbara e Lara Vi dicono Un bacio a tutte le lol E un bacio a tutte le lol Evviva lolina Dai canale di lolina Pei Jo Basta Ragazzi Basta Basta Siete Ciao a tutti Un bacio a tutti quanti Ciao Pei Jo Ciao a tutti